Ciao a tutti amici di Equis sono qua con il mitico Livio Sgarbi. Ciao a tutti i guerrieri di Heller, sono qua con la mitica Heller ed è un piacere poter dare un saluto a tutti quanti. Allora siamo qua per fare insomma una piccola cosina insieme che però non gliela diciamo dai, poi la scoprono man mano quando esce. Le sorprese, giusto che siano delle sorprese. Esatto, però delle cose veramente belle perché insomma mettiamo insieme tutti i contenuti, musica, musica, crescita personale, crescita personale e tutto il resto e quindi continuate a seguirci, io vi metteremo qua sotto il link così ci seguite in entrambi i canali. Certo, e uniamo un po' le forze. Uniamo le forze. Ce n'è sempre bisogno. Sì, ma poi insieme siamo l'unione per la forza. Ragazzi ciao ciao Grazie. Grazie a tutti